Bene, benvenuti. A voi tutti solo una parola per spiegare per quale motivo abbiamo pensato a questo incontro di oggi, cioè perché si parla di arte in un ciclo di incontri dedicato, come sapete, a percorsi di cittadinanza attiva. Chi frequenta gli incontri del nostro laboratorio, adesso associazione, insieme in città, che si occupa di urbanistica partecipata, sa che noi abbiamo un'attenzione specifica per il tema dell'arte. Perché siamo convinti che l'arte sia un efficacissimo mezzo per veicolare l'identità culturale di una comunità. E peraltro, a differenza di altri strumenti comunicativi, non necessita della conoscenza di specifici codici scientifici di interpretazione. Non usa un lessico comprensibile solo agli iniziati. Capisco che questa forse è una semplificazione eccessiva, ma parla un linguaggio comprensibile a tutti. E quindi è lo strumento che, meglio di molti altri, consente di trasmettere l'identità collettiva di una comunità. A maggior ragione ci è sembrato molto interessante questo fenomeno, del quale oggi vi parleremo. Anche se, devo dire, l'interesse delle nostre associazioni non era prevalentemente rivolto agli aspetti più artistico-culturali del fenomeno, ci interessava più la dimensione sociale, però abbiamo la fortuna di avere con noi una grandissima esperta di questo settore, una studiosa che ha accettato con molta generosità il nostro invito, la professoressa Eva Di Stefano, che ringrazio per essere qui con noi. Ringrazio anche il professore Rosario Antoci, anche lui con grande generosità e disponibilità ha accettato di guidarci lungo questo percorso di oggi. Bene, buon ascolto a tutti. Allora, a me è l'onore di presentare il nostro illustre ospite e la relatrice della serata. Io mi sforzerò di essere brevissimo con la mia introduzione, anche perché il menu della serata è abbastanza ricco e io lo ritengo molto interessante. Il vero guidatore sarà la professoressa Di Stefano, che è un'esperta internazionale di art brut e di outsider art. Il programma prevede appunto che cosa? Un excursus che immagino la professoressa ci farà appunto su questi due filoni dell'arte irregolare, cioè di un'arte che non rientra negli schemi, nel sistema e quindi nei canoni dell'arte tradizionale. E appunto arte prodotta e realizzata appunto da irregolari, da personaggi marginali, con biografie, con storie molto intriganti, anche se naturalmente fatte di sofferenza, di appunto una vita molto spesso di stenti. Vedremo questi cinque corti che ci sono stati gentilmente. Credo la liberatoria sia stata consentita da CLAC, che è un'associazione palermitana appunto che si occupa di azione culturale sul territorio. E' naturalmente dal regista di questi cinque corti su cinque degli autori che rientrano appunto in questo ampio filone dell'outsider art, di cui fra l'altro si occupa di raccogliere, di studiarli e quindi di approfondire, di proseguire un discorso iniziato alcuni anni fa, l'osservatorio diretto appunto dalla professoressa Di Stefano, che è l'osservatorio outsider art Sicilia. Quindi il regista Ruggero Di Maggio, che è appunto il fondatore della Mona Moore Film, che insieme a CLAC appunto ha prodotto questi cinque corti che vedremo. La professoressa Di Stefano, abbiamo accennato al suo lungo percorso di storico dell'arte, ha insegnato dal 92 al 2013 storie dell'arte contemporanea all'Università di Palermo e per diverse edizioni, credo che sia stata colei che ha in qualche modo pensato una manifestazione importantissima, qual è stata il Genio di Palermo, che si è svolta dal 98 al 2005, che era una manifestazione soprattutto rivolta alla promozione dei giovani artisti, ricordo bene, manifestazione che mi pare non sia stata più ripetuta. E' appunto una manifestazione che per diversi anni appunto ha portato Palermo a misurarsi con delle importanti iniziative appunto a livello nazionale e internazionale. E' una docente specialista soprattutto di artisti della secessione viennese, Klimt fra tutti, e Klimt, l'oro della seduzione pubblicato per Giunti, è stato tradotto in francese e negli Stati Uniti. Dal 2008 Pubbliche Irregolari, che è uno studio, una ricerca pubblicata per i tipi di calos, con cui inizia questo suo percorso di attraversamento, di approfondimento, che mi pare la vede ormai quasi totalmente coinvolta nello studio appunto dell'art brut e dell'outsider art. L'osservatorio appunto che lei dirige, tra le altre cose, pubblica una rivista semestrale, mi pare che di recente è stata pubblicata l'ultimo numero, in cui vedevo addirittura la presenza di una outsider artist iraniana. Quindi appunto è una rivista che connette, che collega la realtà siciliana, di cui naturalmente la professoressa è profonda conoscitrice e la maggiore esperta italiana, con appunto le varie realtà internazionali che studiano appunto il fenomeno dell'art brut e dell'outsider art. Quindi l'osservatorio è certamente appunto un luogo di ricerca che è un fiore all'occhiello insomma della ricerca artistica siciliana. Io a questo punto, come dire, mi fermerei nel senso che appunto vedrete solo cinque artisti nei corti, ma immagino la professoressa amplierà il suo discorso. Io in questi giorni, non essendo un conoscitore nello specifico appunto di outsider art, certamente conoscevo dai miei studi Jean Dubuffet, che è un po' colui che ha coniato il termine di art brut. E tu nel tuo testo ci dici di pensare appunto allo champagne, ricordando che appunto brut in questo caso vuol dire puro, non addizionato di zuccheri e quindi è a questa autenticità che bisogna pensare quando si parla di art brut. L'outsider art, beh, conoscevo certamente, ho studiato a Comiso e quindi era ancora vivo Francesco Giombarresi, che rientra appunto in questo gruppo di outsider artisti, ma appunto certamente non sono un conoscitore dell'outsider art. In questi giorni ho appunto cercato di approfondire, di insomma di mettermi in connessione con questi autori e devo dire che è una dimensione molto interessante, molto coinvolgente. Sono personaggi, sono artisti la cui storia, le cui vicende, la cui biografia non ci possono lasciare indifferenti. Quindi sono sicuro che dalle parole della professoressa Di Stefano e dai vidi che vedrete rimarrete insomma certamente attratti e interessati all'argomento. Questo è il motivo per cui io chiudo la mia presentazione, sperando magari poi al termine della proiezione di intercettare qualche domanda, qualche intervento di quanti sono convenuti stasera a questo appuntamento. Quindi ancora un ringraziamento alla professoressa Di Stefano e lascio la parola a lei. Vabbè, tocca a me veramente ringraziare gli organizzatori per avermi invitato qua a parlare, a introdurre questi cinque documentari molto belli che saranno proiettati stasera su cinque di questi personaggi e ringrazio il professor Antoci per questa bella presentazione. Allora, il mio compito stasera è in realtà guidarvi alla visione di questi cinque documentari e quindi introdurvi in quella che è la terra dei creatori spontanei e di quelli che io chiamo gli artisti senza patente, cioè artisti abusivi che, diciamo, esercitano in modo illegittimo il mestiere d'artista in quanto non sono autorizzati, non sono riconosciuti come tali e non hanno una formazione artistica alle spalle che quindi giustifica in qualche modo il loro operare. Anzi, spesso non hanno nessuna formazione scolastica, in molti casi si tratta di analfabeti, però personaggi che sono capaci di inventare un proprio linguaggio espressivo originale e diciamo che quindi non seguono dei modelli precostituiti, non cercano di imitare qualcosa, di imitare in qualche modo l'arte riconosciuta per entrare nel linguaggio, insomma, con mezzi tecnici minori. Per questo non sono dei naif, ecco, dobbiamo distinguere una categoria che, insomma, in realtà è avuto molto successo in Italia in anni passati, negli anni 60 e negli anni 70, cioè dell'ingenuità e della spontaneità, perché il naif in realtà segue dei modelli, in qualche modo cerca di compiacere il pubblico, non segue soltanto la propria necessità interiore e espressiva, in qualche modo ci sono le casette, gli alberelli, diciamo, cerca un sistema di rappresentazione tecnicamente semplice, ma in qualche modo legato alla rappresentazione, al tema della rappresentazione figurativa. Invece in questo caso si tratta di artisti che inventano loro delle forme, dei linguaggi espressivi, spesso vivono ai margini della società e danno vita a veri e propri mondi paralleli. Qui abbiamo, diciamo, in questa fotografia abbiamo proprio un prototipo di questo tipo d'artista che è Giovanni Bosco di Castellammare del Golfo, che viveva, era il pazzo del paese, qui lo vedete mentre ha appena finito, dei murali con questi cuori, con gli occhi, che sono continuamente una sorta di messaggio d'amore che lui scrive in tutte le strade e gli edifici del paese, fa anche moltissime opere su carta, comunque io di Giovanni Bosco, che ho conosciuto, non vi racconterò oltre perché c'è un bellissimo documentario dopo dedicato a lui. Ecco, diciamo qui, vabbè, la scritta in inglese è perché questa diapositiva era il titolo, diciamo, di una conferenza che ho fatto a Rotterdam per presentare questi artisti siciliani. Conferenza a cui è stato dato il titolo dagli olandesi, i vulcani creativi dalla Sicilia. Ecco, dico questo per dire come vengono percepiti anche fuori. Questa piantina, voi vedete, la dislocazione degli autori di cui vedrete i documentari. Vedrete che, insomma, rappresentano un po' tutta la Sicilia. Quindi abbiamo Palermo, dove c'è, insomma, uno straordinario eremita che in cima a una montagna ha creato un santuario straordinario, completamente da solo. A Castellammare Giovanni Bosco, diciamo, di cui poi ho fatto vedere il ritratto. A Sciacca Filippo Bentivegna. E poi a Messina Giovanni Cammarata, che è un'interessante, diciamo, è un'interessante esperienza perché è anche un'esperienza in cui la tutela dell'opera di Cammarata è diventato un processo di partecipazione attiva di una comunità che si è aggregata attorno a questo tema, che è anche quello di rivalutazione di un quartiere. Insomma, ha una serie di implicazioni che nel documentario si vedranno. E poi c'è Caltagirone, dove ci sono una serie di artisti di questo tipo. Ma, voglio dire, sembra che ce ne siano tantissimi a Caltagirone. Il fatto è che a Caltagirone è stato attivo, fino a qualche mese fa, un direttore dei musei civici, che era un archeologo, Domenico Amoroso, e aveva una particolare sensibilità per questo tipo di artista. E quindi ne ha raccolti tanti che sono nel Museo Civico, che poi è l'unica collezione pubblica in Italia dove ci sono opere di arte contemporanea, di artisti professionali e opere di artisti non professionali insieme. Quindi anche quello è un caso pionieristico. Diciamo, a Caltagirone perché ne esistono tanti? Perché c'era l'occhio di Domenico Amoroso. Voglio dire, anche in Sicilia ne esistono tanti perché ci sono occhi di qualcuno. Questo è un tipo di arte in cui c'è bisogno di uno scopritore, qualcuno che, diciamo, intercetta per la strada o passando qualcosa di strano, di bizzarro, di eccentrico, si ferma e si chiede che cos'è. Diciamo, altrimenti non esisterebbero, rimarrebbero clandestini, diciamo, nel loro fare. Ecco, quindi, diciamo, questi artisti esistono, spuntano fuori laddove c'è qualcuno che, diciamo, si prende la briga di fare da esploratore in questo territorio. Diciamo, e ognuno di noi, io voglio appunto raccontare la mia esperienza, ognuno di noi, nella vita, diciamo, fa degli incontri, a un certo punto, incontri che poi rimangono dentro, incontri che ti suscitano delle domande, degli interrogativi, a cui non sai rispondere, interrogativi che continuano a risuonarti dentro anche per anni. Così è stato per me, diciamo, per cui questa mia conversione all'Auxedera Art, al Brut, Arte Grezza, eccetera, diciamo, è venuta in tarda età, però ha radici molto antiche. E ha radici in un incontro che ho fatto all'inizio degli anni settanta, ero ancora studentessa, e scrivevo per il giornale quotidiano di Palermo l'ora. Scrivevo piccoli articoli di arte, o comunque di costume, eccetera, e fui mandata a Mondello. Mondello è la borgata marinara di Palermo. Fui mandata sulla piazza di Mondello perché qualcuno aveva detto che c'era un semenzaro, venditore di cali e semenza, che disegnava e faceva dei bellissimi disegni. E quindi mi mandarono lì con un fotografo e io intervistai questo signore, che si chiamava appunto Gaetano Gambino, di cui, vedete, questa è una foto di Enzo Sellerio, che comunque era uno di quelli che l'apprezzavano e che appunto aveva segnalato al giornale l'ora l'esistenza di questo personaggio. E vedete come aveva trasformato il suo baracchino, diciamo, in una esposizione, in una piccola galleria d'arte. Questo personaggio mi colpì molto, era poverissimo. Lui, diciamo, dopo la guerra in cui era stato sommergibilista, era tornato a Palermo, non aveva trovato, insomma, non c'era nessuno della sua famiglia, non aveva trovato lavoro, eccetera, e quindi viveva per strada, uno. Viveva per strada, ha sempre fatto il barbone, era un periodo addormito in un parco pubblico di Palermo, perché di Palermo dico che era il giardino inglese, eccetera. E viveva per strada e poi trovò questo lavoro che gli fu appaltato da un venditore più grosso, diciamo, di questo, a Cali e Semenza, a Palermo. Trovò questo lavoro per vendere, e per passare il tempo, il venditore dell'altro faceva questi disegni molto raffinati con la penna a biro, che adesso vi farò vedere. E io mi chiesi, ma come può? Quest'uomo era molto grezzo, anche piuttosto scorbutico, peraltro aveva un occhio di vetro, aveva perso un occhio in guerra, eccetera, eccetera. Diciamo, è molto grezzo. Dico, ma come può quest'uomo così grezzo, così, diciamo, privo di qualsiasi forma di istruzione che fa questo tipo di vita, eccetera, e esprime fare questi disegni, diciamo, così raffinati. Questa domanda a cui facevo studi di storia dell'arte, ma a cui non sapevo dare una risposta, mi continuò a risuonare dentro nel tempo. Vediamo un'altra immagine. Qui, lui, prima di arrivare a Mondello a vendere questi Cali e Semenza, aveva un altro baracchino in via Terra Santa, a Palermo, in una strada di Palermo. Come vedete, anche qui, sui barattoli, diciamo, e sui sacchi di Cali e Semenza, prevalgono, ci sono disegni buttati a terra, buttati un po' dappertutto. Ecco, diciamo, questo, per esempio, è uno dei suoi disegni, in cui lui trasfigura, in modo fantastico, quindi, infatti, non è copiato, un edificio, diciamo, tipico di Palermo, un edificio tipico, un edificio particolare di Palermo, monumentale, che è la palazzina cinese, che è la palazzina cinese, che fu fatta, vale, dai Borboni, e c'è una sorta di palazzina di caccia, in stile cinese, che lui trasforma in un castello di fiabbe, evidentemente era stato molto colpito da questo edificio esotico, e lo isola, al rispetto, non si vede una città attorno, lo isola e, diciamo, ne fa questa cosa, diciamo, fiabbesca, secondo me, bellissima. Poi, un altro soggetto ricorrente sono questi alberi, questi alberi intrecciati, alberi secchi, ormai senza foglie, alberi quasi fossilizzati. Questo era un soggetto estremamente ricorrente, forse quasi una sorta di autorritratto di questa sua vita arida e solitaria. Diciamo, adesso, fra l'altro, sembravano quasi punti incisioni antiche, che adesso, effetto che si è accentuato con il fatto che l'avviro, diciamo, con il tempo, ha virato il colore, e, diciamo, è diventato più seppiato. Altro, un altro soggetto ricorrente, vedete che non c'è mai la presenza umana, diciamo, o sono piante ormai secche, inaridite, però con un intreccio labirintico di rami, oppure paesaggi fossili, come questo, abitati soltanto da creature, diciamo, appunto, creature prima della storia, diciamo, questi animali fantastici, insomma, dinosauri e compagnia, eccetera. Anche questo ha una fattura incredibile, diciamo, sembra quasi un disegno, un dipinto di Max Ernst, del grande surrealista, è vero? eccetera. E quindi, diciamo, ecco, perché io mi posi questa domanda? Anche capivo che la categoria di naif, che era appunto l'unica che conoscevo a quel tempo, non si adattava, perché queste visioni non avevano una forte tragicità, non erano per niente idilliche, come in genere la pittura naif, diciamo, provenivano da qualcosa, da una pulsione, diciamo, più profonda, e più inconscia. Allora, diciamo, io poi molti anni dopo, diciamo, moltissimi anni dopo, sono passati anni, ho scritto su Clinton, ho insegnato all'università, a un certo punto, prima del 2008, quando preparavo questo primo libro, ho preparato questo libro perché? Per cercare di rispondere a questa domanda in evasa, diciamo, di tantissimi, di decenni prima. E sono andata a ricercare Gambino, che nel frattempo era morto, sono andata a Mondello, con l'articolo dell'ora, ritagliato, parlando con i vecchi pescatori, per dire se non era, e trovai, vabbè, notizie, naturalmente non c'era più, le opere erano quasi tutte disperse, perché molti palermitari le compravano, diciamo, per carità, poi i turisti le compravano, poi, insomma, le uniche opere che oggi ci sono, sono di Sellerio, Bruno Caruso, Leonardo Sciascia, alcuni che, insomma, diciamo, ci avevano, ci credevano nella sua cosa, se le sono tornute appese al muro, perché gli altri le hanno buttate tutte, quindi le opere ormai sono pochissime, diciamo, in giro, ecco, questo è il discorso che la marginalità, non riconosciuta come tale, poi, diciamo, provoca la dissipazione dell'opera, poi lui era morto, in povertà estrema, dalle suore di madre Teresa di Calcutta, che oltre a Calcutta, sono pure a Palermo, e cioè, vabbè, una delle risposte possibili, diciamo, che cosa aveva questo gambino dentro, cosa che apparentemente non si vedeva per spingerla, questa produzione è anche abbastanza incessante, ecco, una delle risposte possibili è il daimon, io devo dire che voglio ringraziare gli organizzatori, anche l'ingegnere Piccitto, di questo incontro, perché ho visto che nella, insomma, nella, accanto alla locandina, che presentava questo incontro, c'erano alcune citazioni, tra cui ho trovato particolarmente, diciamo, mi sono particolarmente riconosciuta in questa citazione, che ho messo qua, di James Hillman, del Codice dell'Anima Delfi, ecco, ho capito che, insomma, diciamo, praticamente, ci incontravamo veramente, ecco, nell'interesse per questa cosa, perché, devo dire, che questa, la produzione di Hillman, che è uno psicanalista, junghiano, diciamo, adesso è scomparso qualche anno fa, diciamo, straordinario, Hillman aveva ripreso questa idea, che viene da Platone, di un mito che, diciamo, che, diciamo, dice che, prima della nascita, l'anima di ciascuno, sceglie un'immagine, o un disegno, che poi vivremo sulla terra, e riceve una sorta di compagno, una sorta di spirito guida, che guida un daimon, che è soltanto tipico nostro, una sorta di angelo custode, che però, in realtà, è un guidatore, verso il proprio destino, e qualunque siano le circostanze, del destino, circostanze che, insomma, non dipendono affatto dalla volontà, circostanze sociali, circostanze culturali, eccetera, circostanze storiche, il daimon, in qualche modo, si fa sempre risentire, e la cosa importante, per un essere umano, è che, in qualsiasi, diciamo, circostanza, si trovi a essere, riesca a entrare in ascolto, con il proprio daimon, questo spirito interiore, e a portarlo alla luce, e allora, io mi sono detta, evidentemente, Gaetano Gambino, nonostante le sue condizioni di vita, aveva un daimon dentro, un daimon che lo portava, a esprimersi, attraverso il disegno, ed è riuscito, a dare ascolto, a questo daimon, e questo daimon, non è venuto fuori, anche in una baracchina di cali e semenza, ecco, diciamo, e quindi, in qualche modo, ha trovato, nonostante, diciamo, il fatto che la vita sia stata sempre disagiata infinita, ha trovato un accordo con il centro di se stesso, ecco, a volte, riuscire a riconoscere la propria ispirazione artistica, può essere, insomma, un modo per trovare, diciamo, un accordo con il proprio centro, insomma, per ricentrarsi, e quindi, questa è una spiegazione, ma non solo, mentre mi preparavo per scrivere questo libro, continuavo le ricerche di Gaetano Gambino e altri, diciamo, si stavano restaurando, si stava restaurando una parte di Palazzo Steri, Palazzo Steri a Palermo, che è la sede del Rettorato dell'Università, è stata, nei secoli, fra il 600 e il 700, per due secoli è stata la sede dell'Inquisizione, e delle carceri dell'Inquisizione, in tutta un'ala, che appunto era il carcere dei penitenziati, diciamo, si sono scoperti, li aveva scoperti prima P3, poi anche Sciascia ci ha scritto una cosa, però sono sempre stati ricoperti da strati di intone, sono stati riscoperti i graffiti, e portati ormai alla luce, i graffiti dei prigionieri dell'Inquisizione, ora questi prigionieri qua ne vedete, ne vedete soltanto un dettaglio, sono celle, celle piene, da terra fino al soffitto di disegni, santi, animali, mostri, scritte, eccetera, cose di tutti i tipi, loro chiaramente non avevano nessun mezzo a disposizione, quindi anche lì si tratta di trovarsi il mezzo, e che, diciamo, sbriciolavano, come dire, il terreno sotto i piedi, la pietra del pavimento, sbriciolavano il pavimento, a volte lo impastavano soltanto con i residui organici, con i propri residui organici, eccetera, per avere un collante, e con questo materiale disegnavano, creavano queste tracce sui muri, a volte per farli in alto, perché certo non è che i carcerieri gli davano le scale, per andare a disegnare in alto, si arrampicavano, si è capito, e si arrampicavano ognuno sulle spalle dell'altro. Allora, diciamo, qui c'è un'altra domanda che io mi sono posta, man mano, mentre seguivo questo libro, e facevo questa ricerca di virgolari, andavo a guardare i progressi di questi graffiti che venivano alla luce, che adesso, diciamo, costituiscono un insieme museale che si può visitare, e mi chiedevo pure, ma che cosa può condurre degli uomini che hanno davanti soltanto o la morte, cioè il rogo o le torture, diciamo, ad affannarsi in maniera così disperata per creare un segno, una figura sul muro. Ora, evidentemente c'è questo bisogno di lasciare un'impronta della propria esistenza, un urlo, diciamo, infatti, Shasha ha intitolato il saggio che ha scritto su questi graffiti, urla senza suono. Dall'altro, diciamo, poi ho incontrato questa citazione di questo sociologo, Zygmunt Bauman, nel teatro dell'immortalità, che mi è sembrato pure dare una risposta, diciamo, non ovvia, non ovvia a questo problema, una risposta possibile, che praticamente scardi nel luogo comune in cui noi diciamo che la cultura è soprattutto memoria. Invece, lui dice, la cultura è invece lo strumento antimnemonico per eccellenza, cioè contro la memoria, perché, diciamo, serve per dimenticare quello di cui gli umani sono consapevoli, cioè la propria mortalità. Il rischio costante di morte, dice, è il motore, il vero fondamento della cultura, è il motore che mette in atto una serie di processi per, in qualche modo, sovrapporsi a un destino di cui si è tutti fin troppo consapevoli. Quindi, come dire, la cultura è quasi come una difesa, una difesa dalla memoria, diciamo, che è dalla memoria del nostro destino. e mi è sembrato anche interessante il rispetto ai, diciamo, ai prigionieri dell'inquisizione. Quindi, come dire, la figura, in qualche modo, come ultimo, anche atto di vitalità, non solo come una denuncia della propria condizione, atto di vitalità, diciamo, quasi per dimenticare la morte che li attende un giorno dopo, 24 ore dopo o un mese dopo. Comunque, spesso questi personaggi sono anche dei veri e propri, diciamo, eroi solitari che, diciamo, fanno delle imprese assolutamente incredibili, come, insomma, quella del postino Cheval, quindi che è un po' il prototipo pure di questi creatori. Il postino Cheval era proprio un postino che è in Francia, a Hot Rive, che è, diciamo, un piccolissimo villaggio, allora proprio era un piccolo villaggio di campagna nella zona del Rodano. quindi a sud-est della Francia che ha costruito da solo dal 1879 al 1912 cioè quindi per 30 anni il suo palazzo ideale che, come vedete, è qui in una cartolina d'epoca. Diciamo che è una sorta di mix incredibile di tutto l'immaginario architettonico che lui poteva avere visto sfogliando anche rivisti di segni dell'epoca eccetera cioè anche romanzi d'appendice probabilmente insomma ci sono elementi che vengono da tempi indiani elementi assiro-babilonesi elementi egiziani tutto mischiato in un purri grandioso pensate che lui l'ha costruito completamente da solo senza un progetto seguendo le sue fantasie raccogliendo le pietre lui era un postino di campagna quindi doveva fare un percorso molto lungo ogni giorno per consegnare la posta e si imbatteva rimase affascinato dalle pietre che incontrava lungo il cammino cominciò a raccogliere portava queste pietre nel suo fondo e cominciò la sera ogni volta poi la sera dopo il lavoro costruiva le cose aveva poi addirittura una specie di berrettino con una candela in testa dico non è che siamo in un periodo alla luce elettrica per riuscire a costruire dico e chiaramente era considerato il matto da tutto il villaggio come potete immaginare anche dalla famiglia era sposato con figli diciamo certo non si rendevano conto del perché diciamo questa cosa oggi questa è una fotografia di oggi oggi comunque questo costituisce come appunto il matto del paese si può trasformare in una risorsa diciamo questo edificio straordinario diciamo costituisce l'attrazione turistica principe di Hot Rive dove non andrebbe anima viva se non ci fosse questo da vedere eccetera perché ormai hanno 150.000 visitatori all'anno è musealizzato bisogna anche dire che la Francia è stata molto precoce nel riconoscimento di queste opere e che alla fine degli anni 60 il ministro della cultura francese André Malraux che era anche uno scrittore quindi oltre a essere ministro della cultura era un vero uomo di cultura lo dichiarò monumento lo dichiarò parte del patrimonio monumentale di Francia quindi questo è il primo monumento spontaneo creazione spontanea diciamo del mondo che viene dichiarata parte ufficiale del patrimonio artistico e viene iscritta nel registro dei monumenti e quindi salvaguardato tutelato e quindi diciamo è giunto fino a noi in ottime condizioni non è solo il postino scevalli in questo eroismo diciamo voglio raccontare molto brevemente anche la storia di Simon Rodia il cui nome è anche Sabato Sabatino Rodia perché era un diciamo era emigrato negli Stati Uniti dalla Campania quindi lui era un operaio emigrato negli Stati Uniti che ha lavorato alla costruzione alla grande costruzione delle ferrovie negli Stati Uniti a un certo punto a Los Angeles in una zona chiamata Watts che era una sorta di quartiere degradato dove lui abitava a un certo punto lui ammassò tutti gli scarti dei binari diciamo il materiale non utilizzato il materiale di scarto diciamo del cantiere lo accumulò e costruì da solo qui lo vediamo in una fotografia d'epoca arrampicato queste torri incredibili che diciamo sono appunto alcune altre 30 metri sono 17 strutture connesse tra loro anche qui diciamo c'è stato 30 anni 30 anni di passione solitaria in questa diciamo costruzione anche lui viveva solo spesso la solitudine è uno degli elementi che contraddistingue queste biografie dico anche queste torri diciamo sono state dichiarate sono monumento negli Stati Uniti sono uno dei monumenti storici degli Stati Uniti sono anche in qualche modo un monumento all'immigrazione alla cultura lontana dall'immigrazione italiana negli Stati Uniti degli americani e diciamo sono visitatissime ci sono scrittori che le citano come la cattedrale del jazz eccetera sono state sottoposte peraltro sono resistentissime quella è una zona di terremoti sono state sottoposte a prove di trazione per vedere se avevano la resistenza e hanno resistito perfettamente come se fossero state fatte da un architetto vero e proprio peraltro Bruno Zevi diciamo che è un grande storico dell'architettura italiano le cita nella sua storia dell'architettura mondiale come un esempio di architettura in effetti diciamo hanno ispirato anche alcuni architetti di professioni americani insomma è molto interessante tutta la storia che ruota attorno a questa costruzione un altro caso di questi eroi solitari incredibili in cui queste cose si sono trasformate insomma in una sorta diciamo di parco Disneyland che produce un sacco di soldi eccetera diciamo sempre lo scarto il matto che diventa risorsa è questa in India di questo indiano Nek Chande che ha costruito una città alternativa a Chandigarh effettivamente nel 58 lui è morto l'anno scorso e ha sempre continuato a lavorare a questa creazione diciamo che è proprio diciamo nella giungla a ridosso della città Chandigarh lui prima nascosto dagli alberi cominciò a creare questa seconda città con edifici tempi e tutta una popolazione popolazione di personaggi di tutti i tipi così seriale e anche animali eccetera fatta tutta con gli scarti scarti di che diciamo in qualche modo questa seconda città di questo personaggio che era un ispettore dei cantieri voleva essere una sorta di antidoto quasi o comunque di specchio rovesciato della nuova Chandigarh in quegli anni la vecchia Chandigarh veniva demolita era stato affidato al famoso architetto Le Corbusier la riprogettazione totale di Chandigarh quindi diciamo c'erano cantieri di demolizione dappertutto lui raccoglieva e portava lì dietro insomma nella giungla in questo spiazzo che aveva creato poi c'erano tutti gli alberghi che venivano rinnovati che buttavano tutti i loro vasellame lui raccoglieva tutto il vasellame e poi a pezzetti il vasellame diventa la decorazione come vedete di questi personaggi quindi è fatto tutto con materiale riciclato pure qui tutto da un solo uomo oggi è chiaramente monumento in India stato riconosciuto ai tempi di Indira Gandhi è un rubuluogo di attrazione appunto è un po' una specie di Disneyland eccetera ecco come si rovesciano le cose all'inizio diciamo volevano distruggerla abbattere c'è stata proprio lì una partecipazione dei cittadini che diciamo dei cittadini di Chandigarh che hanno fatto una specie di catena umana per bloccare diciamo i demolitori per bloccare le demolizioni perché in qualche modo si riconoscevano in questo mondo fiabbesco e fatato che Neck Chand aveva creato come antidoto al modernismo anche se di qualità al modernismo all'architettura modernista diciamo più anonima più fredda più lontana dalla tradizione ecco qui vediamo un'altra immagine di questi diciamo principi diciamo creati da creati da Chand ecco questo insomma per darvi un po' l'idea anche di questi personaggi chiamiamoli appunto eroici che compiono delle imprese assolutamente diciamo incredibili quindi determinati e con un'ossessione creativa assoluta quindi diciamo possiamo dire sono veramente matti o sono ispirati io devo dire qui ho riportato la citazione che ho visto scritta da un bambino di otto anni sul libro delle firme di una mostra di Giovanni Bosco che era quello di prima dell'inizio che vi ho mostrato perché mi è sembrata diciamo molto sincera e lo sguardo dei bambini forse il più saggio dice Giovanni Bosco era un artista meraviglioso e anche se era un po' picchiatello perché eccetera a me sembrava un uomo normale eccetera e quindi poi diciamo mi piace anche molto una definizione che dà un critico d'arte messicano che è Carlo Sacida eccetera che dice questo tipo di opere sono concepite senza intenzione artistica cioè nessuno di questi che noi stiamo nominando voleva fare l'artista diventare famoso come artista guadagnare come artista ma per una sorta di volontà di superare le avversità le difficoltà della vita fare buon viso alla propria cattiva sorte e all'esistenza mediocre e imprimere un sigillo di bellezza attorno a sé anche pur nella miseria nel disagio più totale trasformare questo disagio in bellezza una bellezza come ognuno di loro soggettivamente la sentiva ed è diciamo qualcosa effettivamente di commovente ed è per questo che queste opere sono anche così profondamente coinvolgenti diciamo io diciamo ne ho poi in seguito scoperti vari diciamo per esempio diciamo a sciacca sempre esiste un altro è esistito un altro Bentivegna oltre quello che voi il straordinario che vedrete nel documentario che era questo Salvatore Bentivegna ha detto il moro per distinguerlo dall'altro e vabbè un personaggio che chiaramente era considerato matto ma appunto dobbiamo chiedere c'era matto o ispirato questo a un certo punto faceva il pescatore diciamo scampò a un neofraggio e quindi decise di non tornare più per mare si mise a raccogliere origano cioè non è che e sapesse fare altro faceva il raccoglitore di erbe selvatiche cosa che capite bene non bastava mantenere una famiglia di dieci figli siamo negli anni in cui i figli se ne facevano tanti quindi diciamo a un certo punto fu scaricato diciamo appena il figlio maggiore compì 18 anni e quindi poteva assumere lui diciamo in qualche modo il ruolo di pater familias fu scaricato dalla famiglia moglie compresa fu buttato fuori casa eccetera e si ridusse a fare il barbone poi lui si è creato una baracca studio come vedete tutta dipinta e da quel momento in poi oltre a raccogliere origano per campare lui in qualche modo malamente cominciò a scolpire anche a disegnare e a dipingere diciamo forse era matto forse forse no forse così ha trovato il suo diamond per ritornare all'origine anche perché le sue opere sono molto particolari diciamo perché qui stiamo parlando pure di un'analfabeta eccetera cioè di una persona diciamo molto semplice con una cultura rudimentale però vedete che le sue opere sono fortemente simboliche e hanno dei simboli arcaici molto forti che diciamo a volte mi inducono ad avvicinare a scambiarle con reperti archeologici addirittura ecco qui per esempio questo uovo cosmico uovo cosmico sulla cui superficie sono disegnate sono incise tante facce come se ci fosse tutta l'umanità che sta per nascere ecco è anche un'invenzione iconografica forte quando io parlo di originalità mi riferisco a questa a questa capacità di inventare e quindi di sorprenderci ecco anche questa per esempio diciamo le statuine diciamo di questo di questo moro sono tantissime questa è pure interessantissima perché diciamo probabilmente si riferisce in qualche modo però sempre in modo archetipico all'esperienza vissuta della donna potente che lo caccia di casa e qui c'è la donna la figura femminile che porta sulle spalle come un fardello l'uomo diciamo la donna è come dire la potenza legata alla terra con le gambe ben piantate in terra l'uomo invece si lascia portare e praticamente diciamo come vedete agli occhi chiusi è in sonno cioè l'uomo è perso nei suoi sogni eccetera mentre la donna è diciamo l'asse con la terra e con la vita anche questa è una figurazione assolutamente inedita interessante dico però purtroppo non mi posso soffermare sui singoli quindi dobbiamo andare avanti a volte diciamo vedere un po' con tutte le sfaccettature di questa problematica a volte voglio dire si tratta di un caso di autoterapia diciamo non c'è soltanto diciamo la trasformazione in bellezza delle miserie della propria esistenza ma anche diciamo una sorta di terapia quasi inconsapevole del proprio disagio che attraverso la creazione artistica insomma trova il modo diciamo di esprimersi e trovare di nuovo un ponte di comunicazione con il mondo una storia diciamo molto bella molto forte molto toccante è questa storia di Judith Scott un'artista americana che è fra le più famose poi ormai del settore e di cui raccontiamo la storia nell'ultimo numero di questa rivista perché insomma diciamo la rivista che poi fra un poco vi presenterò è anche una rivista d'arte ma anche una rivista di storie di storie umane forti insomma nel 1943 nacquero diciamo in Oklahoma mi pare due gemelle di queste due gemelle di cui una era Judith e l'altra diciamo adesso veramente non mi ricordo come si chiama ammettiamo che si chiamava Jane eccetera una era Judith era down e poi si scoprì anche sorda e muta diciamo le due sorelle le due sorelline diciamo quella sana e quella diciamo malata crescono insieme con un rapporto fortissimo intensissimo anche se l'altra è sorda e muta come si vede la più piccolina diciamo loro stabiliscono un rapporto tattile di comunicazione diciamo e proprio sono inseparabili però a un certo punto arriva l'età scolastica quindi la Jane viene mandata a scuola non c'è nessuna scuola nessun istituto per la Judith e in qualche modo anche i medici eccetera consigliano di metterla in un istituto diciamo apposito istituto apposito che è molto che è lontano in un altro stato degli Stati Uniti quindi improvvisamente queste gemelline vengono separate e questa Judith viene diciamo lasciata in questo istituto da dove diciamo non uscirà mai più se ne perdono anche le tracce la famiglia continua il suo corso i genitori poi muoiono cioè comunque la sorella diciamo la Jane che poi avrà una vita normale un marito e dei figli comunque non dimentica la sorellina e comincia diciamo quando poi è grande diciamo comincia a fare ricerche in tutti gli Stati Uniti perché nel frattempo la sorellina è stata spostata diciamo di qua e di là in questi istituti assistenziali non se ne sa più niente e comincia a fare ricerche fino a quando non la ritrova la ritrova e la porta a casa sua eccetera quella oramai diciamo ha vissuto 30 anni in questo stato diciamo di bozzolo assoluto diciamo così in balia degli eventi comunque là diciamo per per darle un po' di sostegno la manda in un atelier di arte terapia che appunto si trova vicino a San Francisco diciamo intanto la sorella si era trasferita in California stava in California lì lei all'inizio la Judith non sa bene che cosa fare e questa è una sua opera eccetera la Judith all'inizio non sa che cosa fare cioè voglio dire i disegni le matite colorate lì ci sono tutti gli strumenti a disposizione insomma non sembra particolarmente interessata guarda guarda un po' quello che fanno gli altri a un certo punto improvvisamente un giorno si risveglia da questo stato di torpore perché ha trovato il suo linguaggio che non è quello degli altri non disegna non modella la creta plastilina eccetera lei cerca degli oggetti e trova dei fili colorati fili di lana di diversi colori e comincia ad avvolgere degli oggetti qualsiasi sono oggetti può essere la bottiglia il microfono insomma quello che ha sotto mano un ombrello eccetera li avvolge continuamente con questi fili colorati creando alla fine insomma l'oggetto non si riconosce più e creando delle vere e proprie sculture sculture colorate sculture tessili queste sculture tessili in effetti diciamo ormai sono molto richieste in tutti i musei del mondo ecco paradossalmente diciamo probabilmente era un modo per comunicare questa protezione la protezione dell'oggetto cioè diciamo qualcosa che aveva a che fare con questa separazione traumatica e con questo anche essere imbozzolati sorda muta cioè non avere degli strumenti di comunicazione col mondo quindi lei comincia a comunicare così e in effetti diciamo questa è una storia in fondo agli etofine si è ritrovato la sorella riesce a comunicare con il mondo viene anche apprezzata insomma la storia è tragica ma agli etofini diciamo una persona che io ho conosciuto è assistito Anna Maria Tosini a Palermo che è morta nel 2013 dico sempre per un discorso appunto il discorso dell'autoterapia qui come vedete Anna Maria Tosini è una bella donna qui di 80 anni di 80 e più che era stata una bellissima donna a Palermo e anche una donna diciamo degli ambienti colti e mondani a un certo punto diciamo la situazione economica ha un rovescio insomma c'è tutto un problema anche con la famiglia lei viene interdetta e diciamo è messa in un istituto di assistenza quindi è lì che la incontro io incontro io perché qualcuno mi segnala che c'è una signora in un appunto in una casa di riposo diciamo una casa di riposo assistita eccetera che fa degli oggetti strani riciclando tutta la carta che trova che ha a portata di mano la carta dei pacchi degli involucri la carta dei dolci insomma e che fa delle straordinarie sculture eccetera crea decorazioni io vado a trovarla in effetti la trovo in una situazione terribile c'è una donna piena di vita però in una situazione che non favoriva come invece in quella di Judith Scott americana che favoriva questa creatività lasciando pure libera la Judith di trovare la sua strada insomma qui invece c'erano persone che non capendo che lei in questo modo cercava di trovare ancora una gioia e abbellire questo spazio squallido in cui viveva le buttavano tutte cose cioè diciamo prendevano che dice no c'è pericolo di incendio e diciamo prendevano spazzavano e ramazzavano via tutto quindi a questo punto ecco che cosa serve per esempio l'osservatorio Uzzale der Arte a questo punto io mi sono fatta carico di salvare io le opere diciamo naturalmente per fare questo ho dovuto chiedere il permesso al giudice tutelare al tutore cioè seguire tutta una trafila burocratica dato che la signora era interdetta e quindi la sua autorizzazione diciamo legalmente non valeva diciamo faceva questi straordinari cappelli e comunque anche delle sculture spesso assolutamente incredibili come ad esempio questo Cristo a volte sono soggetti sacri a volte no a volte sono soggetti assolutamente gai ricordi d'amore diciamo c'era di tutto in questa produzione però vedete questo Cristo è fatto solo con la carta della frutta quella che vede la carta della frutta piegata eccetera eccetera è modellata sopra sono carte veline eccetera e poi con degli interventi di colore ed è di una espressività assoluta e cioè come se raccontasse tutta la sua vicenda diciamo tragica allora questo è diciamo come dire l'antefatto che mi porta alla fondazione presso l'università di questo osservatorio outsider art nel 2008 quando esce diciamo in contemporanea all'uscita di questo libro che è il primo saggio di studi su questo argomento questo aveva la funzione di essere diciamo un laboratorio di ricerca quindi di ricerca sul campo e quindi anche di elaborazione di strategie per tutelare scoprire proteggere salvare eccetera dalla distruzione come laboratorio di ricerca era molto funzionava molto bene perché diciamo avevo tutti gli studenti gli studenti spesso venivano dalla provincia quindi diciamo appassionante ognuno diventava un piccolo esploratore un piccolo segnalatore c'era insomma chi mi segnalava che nel paese aveva c'era un tipo bizzarro che faceva delle cose portava delle foto in questo modo abbiamo scoperto tante cose per esempio questo Bentivegna detto il moro questo di queste statuette archetipiche l'ho scoperto così l'ho scoperto grazie a una mia studentessa che mi portò da Sciacca diciamo ma c'è questo io ho visto è Sciacca è interessante diciamo seguiamo questa pista e quindi si aprivano delle piste che portavano insomma delle cose molto interessanti oggi l'associazione oggi l'osservatorio è un'associazione indipendente è un'associazione culturale indipendente ovviamente senza scopo di lucro e diciamo non ha una sede ufficiale perché appunto non ha diciamo finanziamenti è un'associazione povera totalmente autofinanziata quindi non ha la sede è soltanto virtuale è soltanto sul web sul sito web che vedete scritto sopra www.ausederart.it poi ci riuniamo diciamo laddove possiamo spesso diciamo altre associazioni culturali o istituzioni parlamentare ci mettono a disposizione le sale gli spazi dico non abbiamo diciamo un posto dove fare vedere anche le opere che abbiamo raccolto insomma non abbiamo una sede che è disponibile solo dell'osservatorio facciamo come vi è stato già detto appunto una rivista che si trova online su questo sito www.ausederart.it di cui sono usciti due numeri diciamo ancora io questo verde di cui parlava anche il professore Antoci dove appunto noi cerchiamo di collegare le ricerche che facciamo in Sicilia al mondo e portiamo anche le ricerche del mondo sulla rivista insomma creiamo tutta una rete appunto infatti in questo numero attuale quello verde io ho portato questo per farvi vedere la consistenza della rivista fisica eccetera e lo verde diciamo ci sono repertaggi dall'Iran insomma quindi tutta una ricerca su artisti iraniani inediti di questi artisti spontanei molto interessanti sul Messico dal Messico insomma abbiamo corrispondenze ormai collaboratori diciamo devo dire in tutto il mondo e quindi diciamo noi accresciamo come dire la nostra conoscenza del tema e nello stesso tempo in questo modo facciamo conoscere i nostri artisti online significa che uno la può scaricare che uno la può scaricare se la può se vuole consumare una serie di cartucce perché sono 160 pagine tutte a colori anche stamparsene in proprio oppure può ordinare a un prezzo più alto diciamo la copia cartacea e diciamo lì è diciamo collegata a una stamperia internazionale quindi con cui noi a cui noi abbiamo delegato questo compito e a cui va diciamo totalmente l'importo dell'importo della cifra loro diciamo accolgono in una settimana mandano all'indirizzo la copia questo ci ha diciamo sollevato dal fatto di fare un investimento di prenderci noi l'onere della stampa della distribuzione eccetera che è un processo diciamo costosissimo e che sicuramente non potremmo sostenere e ci consente di fare diciamo un prodotto di qualità e quindi voglio dirvi diciamo uno non dovrebbe farsi autopubblicità ma in questo caso diciamo io la faccio all'associazione perché poi spero che voi guardiate il sito diciamo vi scaricate la rivista vi mettete in contatto con noi attraverso l'indirizzo insomma voglio dire noi siamo alla ricerca di segnalatori esploratori e diciamo altri appassionati e anche mecenati ecco quindi in ogni caso io diciamo ho l'obbligo anche di dirvi quali sono stati i nostri principali successi intanto al castello incantato di Bentivegna che ora poi vedrete nel documentario è stato apposto il vincolo monumentale questo si deve alla sensibilità della soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento ma si deve anche alla campagna la grande campagna diciamo di attenzione che noi abbiamo portato avanti abbiamo trovato questa volta nella soprintendenza un'istituzione diciamo sensibile che quindi ha messo in moto quel meccanismo burocratico che ha permesso di apporre il vincolo monumentale a castello incantato di Sciacca anche qui è un'operazione pionieristica diciamo in Italia che è l'opera di un contadino analfabeta eccetera sia adesso nel registro dei monumenti e quindi sottoposta a tutela a vincolo a tutto quello che ne consegue poi il salvataggio materiale di opere destinate alla distruzione quelle di Anna Maria Tosini l'ho detto diciamo le abbiamo salvate tutte diciamo sono tutte ormai nella nostra disponibilità quelle opere di Bosco le opere di Giovanni Bosco quel primo che adesso viene diciamo è collezionato da moltissimi collezionisti europei tutto questo nel frattempo comunque tutte destinate alla distruzione lui muore eccetera in effetti noi insieme dei ragazzi di Castellammare cerchiamo sempre di collegarci anche con delle associazioni del posto di creare queste reti territoriali perché questo è importante è importante che ci siano delle persone che adottano che adottano l'artista e che adottano le sue opere e che siano i più possibili anche vicine perché è chiaro che anche io personalmente non posso essere dappertutto quindi diciamo in accordo con dei ragazzi di Castellammare degli studenti i videomaker di Castellammare abbiamo salvato catalogato inventariato e conservato in apposite casse tutta l'opera su carta di Bosco e abbiamo anche adesso attivato un progetto con l'Università di Palermo di restauro di questi murali di cui avete visto un piccolo esempio questi murali che in realtà chiaramente la salsedine e anche il cattivo stato delle pareti su cui sono dipinte insomma si stanno deteriorando molto rapidamente e poi diciamo un successo che devo registrare è la promozione internazionale di questi autori siciliani che siamo riusciti a fare attraverso la rivista attraverso conferenze come questa eccetera e qui diciamo mi tocca dirvi che la storia terrile la storia desolata e triste di Gaetano Gambino il semenzaro in realtà si conclude nel 2012 in un museo a Parigi dove siamo riusciti a portare le opere come vedete lì intravederete un paio di questi alberi diciamo senza foglie eccetera e questo dico per dirvi diciamo qualche cosa diciamo dei consensi li abbiamo raccolti questa è la sala del museo di Losanna dedicata a Giovanni Bosco il museo di Losanna che è un museo che diciamo raccoglie la collezione di Jean du Buffet sull'art brut brut è una sorta di sinonimo francese di outsider art significa arte grezza sostanzialmente diciamo il museo ha comprato cento opere di Giovanni Bosco diciamo in questa sala sono una parte le altre sono in deposito e poi diciamo la mia esperienza più recente è questa che ho fatto a Rotterdam dove appunto vi dicevo i vulcani creativi ho fatto questa conferenza il 6 maggio ma l'ho fatta all'interno di una grande mostra che si chiamava appunto che era al Kunstal che è un museo d'arte contemporanea di Rotterdam si chiamava di Kunstal of Everly King perché diciamo il proprietario inglese di questa enorme collezione mondiale diciamo veramente globale comprende dall'Australia all'India eccetera eccetera tutto il mondo diciamo non ama il termine outsider diciamo non ama il termine outsider indubbiamente diciamo questo ne potremmo discutere dopo altrimenti veramente diventa troppo lungo il discorso perché trova il termine outsider un termine della separatezza un termine non inclusivo quindi lui lo rifiuta e preferisce appunto dire di ogni se il mio museo la mia collezione è la collezione di ogni cosa una collezione inclusiva comunque questa mostra era molto grossa 26 sale mille opere 122 artisti di tutto il mondo il grande successo qual è? di questi 122 artisti c'erano solo 8 italiani di cui ben 6 siciliani cioè come dire la Sicilia era diciamo come dire la grande vetrina outsider dell'art brut siciliana era quella che era più rappresentata e questo insomma indubbiamente si deve a quest'opera di promozione quindi ne sono contenta e ve lo dico vi faccio anche vedere vi faccio anche vedere diciamo una parte degli allestimenti per esempio questo è un artista contadino di Caltagirone Francesco Cusumano e vabbè diciamo anche qui c'è una storia affascinante però diciamo che non ve la posso raccontare se non tolgo troppo spazio ai documentari comunque diciamo il collezionista inglese questo James Bratt ne ha comprati 80 pezzi e come vedete diciamo costellano tutta la parete sono in legno in pietra anche qui diciamo questa scultura contadina diciamo come dire rimanda molto al reperto archeologico come vedete c'è molto questa cosa dell'archeologia e quindi non è un caso che sia stata scoperta diciamo empaticamente da un archeologo ex archeologo come il direttore come questo Domenico Amoroso di cui vi ho parlato prima il direttore del museo civico di Caltagirone questo è un altro pittore palermitano di figure diciamo inquietanti mostruose metamorfiche cioè proprio di incubi Salvatore Bonura ha detto sabbo diciamo a Palermo ormai completamente dimenticato c'è stato un momento in cui era abbastanza conosciuto perché anche lui insomma era uno fra i protetti di Sciascia eccetera a suo tempo e qui diciamo come vedete ha una parete intera al museo di Rotterdam qui ci sono cento opere al museo di Gibellina chiuse in un deposito in un museo che è pure chiuso non dico altro ecco questo è per vedere un'opera diciamo questa è una delle opere che sono a Gibellina è un suo autorritratto che come vedete è dentro questa selva questa giungla di idoli idoli mostri di figure animali uomini donne foglie carnivore che diciamo chiaramente alludono anche al sesso femminile cioè una una figurazione molto ossessiva e molto molto forte che però ha qualche cosa di mesoamericano anche qui può ricordare il centro America certe pitture colombiane messicane John Barresi John Barresi che era pure presente a Rotterdam visto che siamo nel territorio di John Barresi fra che è nato a Vittoria poi vive quasi tutta la sua vita a Comiso dove poi muore eccetera diciamo non posso che presentare allora John Barresi diciamo lì a Rotterdam c'era quest'opera che è un è un suo soggetto frequente queste teorie di donne diciamo in questa chiave espressionistica però l'altro aspetto molto interessante di John Barresi è lì accanto accanto vedete che c'è una cornicetta con dei francobollini perché diciamo oltre a queste figure diciamo invece più grandi diciamo di queste lui faceva questa micropittura piccolissima invece dove era raffinatissimo per cui come dire quasi espressionista nelle telegrandi impressionistico nei francobollini diciamo di cui qua vi faccio vedere due ingrandimenti questi piacevano moltissimo a Leonardo Sciascia era quelli che Sciascia collezionava queste micropitture poi un altro autore eccezionale fra poco stiamo finendo vedo che l'ingegnere Piccitto mi comincia a lanciare sguardi di ammonimento eccetera e Nicolò Scarlatella sempre di Caltagirone era un personaggio che diciamo si ammala a un certo punto della sua vita di distrofia muscolare anche giovane già giovane si sposa ha dei figli però non può a un certo punto non può più né lavorare né vivere a Caltagirone che è tutta salita e scale eccetera e si trasferisce a Gran Michele Gran Michele diciamo non so se voi la conoscete totalmente piana squadrata geometrica con delle strade che convergono c'è un disegno diciamo molto chiaro quindi perché lì diciamo può ancora all'inizio muoversi poi quando non si potrà muovere più lui diciamo resta a casa e disegna dipinge ecco qui c'è un'intera parete diciamo di pitture su carta di Scarlatella ve ne faccio vedere una perché io le trovo veramente molto interessanti perché c'è una mescolanza anche di scrittura perché questa diciamo è come se fosse anche un suo diario una sorta di sua pagina di un suo libro possibile quindi c'è poi ci sono questi colori molto belli che ricordano sia la ceramica di Caltagirone che diciamo in qualche modo anche i colori del carretto siciliano comunque soprattutto secondo me la ceramica di Caltagirone e lui poi interseca diciamo questi colori di Caltagirone con delle geometrie le geometrie sicuramente sono influenzate anche dalla pianta architettonica di Gran Michele per cui a volte lui addirittura riproduce continuamente come una sorta di stella con questi spigoli con questi triangoli poi per finire voglio presentarvi diciamo uno degli allestimenti più divertenti al museo di Rotterdam di una sorta diciamo di stilista del riciclo siciliana Gilda Domenica Gilda Domenica vedrete uno dei documentari molto molto grazioso molto ben fatto uno dei corti e diciamo così una nota più lieta Gilda Domenica è una signora ottantenne che vive a Caltagirone sola rimasta vedova i figli lavorano lontano eccetera quindi vive sola e a un certo punto lei era diciamo viene da una famiglia madre era una sarta lei si è dedicata pure non ha fatto la sarta di professione ma insomma si dedicava pure al lavoro di cucito e comunque si dedica a creare una moda bizzarra eccentrica diciamo assurda in cui fa il vestito cappello borsa e scarpe tutto diciamo abbinato soltanto con materiali di scarto estremo diciamo che sono dai sacchi sacchi dell'immondizia tutte le confezioni tutto ciò che viene buttato lei lo ricicla i tappi di bottiglia cioè qualsiasi cosa lo ricicla e lo trasforma e diventa una creazione diciamo anche una creazione bizzarra e straordinaria una volta all'anno lei indossa le sue creazioni e si fa fotografare da un fotografo amico suo e quindi crea anche degli album in cui lei è l'indossatrice di questi suoi modelli diciamo è veramente diciamo un personaggio ma diciamo lo vedrete qui concludo con una immagine di lei che indossa un suo vestito che come vedete è un vestito un po' alla Mondrian diciamo con queste geometrie e nello stesso tempo è fatto con carta di musica e quindi si riferisce quindi anche un vestito della memoria perché la sua famiglia di Caltagirone suo padre diciamo era il direttore della banda di Caltagirone era una famiglia in cui ognuno suonava uno strumento la sua famiglia di appartenenza e quindi aveva questa passione lei anche per la musica quindi è un omaggio alla sua memoria personale nello stesso tempo diciamo come vedete un'invenzione con il cappello la borsa e le scarpe quindi diciamo con questa nota divertente io adesso chiudo poi se ci sono domande oppure se le vogliamo rimandare dopo io non so quanto mi sono presa quindi credo che diciamo forse dobbiamo vedere i film grazie grazie grazie